ciao a tutti amici del toro benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto di ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami toro tendenze energetiche affettive per la prima metà di maggio 2024 amici del toro abbiamo la torre quando c'è la torre è sempre un periodo un po impegnativo ma più che altro per la morte del lego di cui ci parla cioè è come se arrivasse qualcosa che distrugge rompe disfa diciamo le certezze che avete avuto fino a questo momento per qualcuno potrebbero essere situazioni per qualcuno idee adesso andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo quindi facile che non risuoni tutto se non risuona se non lo se per caso voleste completare il vostro messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente segno lunare oppure venere e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video sempre in descrizione trovate anche i link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti che sono presenti sul canale vi ricordo inoltre che queste sono stese sugli affetti in generale quindi possono riguardare la famiglia piuttosto che gli amici piuttosto che le relazioni di coppia io vi dico qual è l'andamento energetico più importante il movimento energetico così com'è e poi faccio come degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà le letture per single e per relazioni di coppia o comunque relazioni diciamo già esistenti sono già online e le trovate nella sezione dell'oroscopo mensile oppure nella sezione dei video scorrendo in basso con il dito allora ragazzi partiamo con un 8 di spade un cavaliere di spade un 10 di bastoni gli amanti un re di pentacoli un 6 di coppe e un fante di bastoni allora l'unica carta un po dubbiosa è questo 8 di spade e potrebbe essere quello è legato un po alla torre quindi per molti vi dirò che potrebbe già anche essere passato questo momento questa notizia questo fatto questo crollo del leggo e chiamiamolo così ho l'idea che ci sia una persona nello specifico con con la quale avrete questa torre non so perché ma ho la sensazione che beh non è detto per qualcuno potrebbe essere una situazione non una persona comunque andiamo a vedere carta per carta così riesco ad essere più specifica allora abbiamo la luna e un 6 di pentacoli allora sì secondo me qualcuno o c'è ancora in mezzo a questa torre o la pena superata è per un gruppo molto piccolo che deve ancora arrivare questa torre e comunque penso che faccia riferimento più una questione mentale che non è una questione beh abbiamo un 6 di pentacoli si potrebbe anche riguardare una questione pratica per qualcuno potrebbe essere la rottura di qualche accordo la rottura di qualche contratto il fatto che ci si aspetti aiuto ma questo aiuto non arrivi non so perché qui con luna ragazzi ci sono delle cose secondo me di cui andrete a prendere consapevolezza di solito la luna carta di proiezioni anche qui con questa fanciulla bendata con un po come se non si vedesse qualcuno probabilmente non sta vedendo che si sta accontentando di poco che si sta accontentando diciamo così in questa situazione in questa relazione devo vedere il cavaliere di spade abbiamo la temperanza il 9 di coppe allora il cavaliere potrebbe rappresentare una persona vicino a voi ma come la sensazione che per molti sia il vostro tipo di atteggiamento nei confronti della vostra guarigione perché abbiamo una carta della temperanza nei confronti del vostro benessere nei confronti del ok adesso basta adesso vengo io adesso sono io che voglio pensare a stare bene a trovare il mio il mio appagamento il mio quello che mi rende pieno piena quello che mi rende in equilibrio quello che mi nutre fondamentalmente allora per il 10 di bastoni è uscito un 7 di bastoni re di coppe ruote della fortuna voglio un'altra carta per questo 7 di bastoni allora qui potrebbe esserci qualche esserci stata qualche discussione in realtà ragazzi non mi è ancora chiaro se è più una situazione familiare piuttosto che di coppie piuttosto che di amicizia però qui è come se si volesse a far pace con qualcuno e lasciarsi indietro un certo tipo di situazione di questione pesante però avete anche la ruota della fortuna sento e il giudizio quindi sento che in qualche modo è un passaggio un po per destino quello che state affrontando andiamo a vedere gli amanti 3 di pentacoli e 9 di spade allora quello che mi viene da dire è che in questa situazione o in questa relazione non c'è poi così tanta armonia c'è bisogno come di ricalibrare un pochettino i pesi e le misure il punto qual è che prima voi dovete passare attraverso questa temperanza quindi prima lavorate su di voi trovate un vostro equilibrio interno poi riuscirete ad affrontare questo 10 di bastoni cioè lasciarvi indietro tutti quei pesi che non sono vostri e che sinceramente ragazzi avete anche bisogno di lasciare indietro perché potrebbe essere un periodo un po pesantuccio considerata la torre il 10 di bastoni voi vedetelo anche così invece che pensare perché fa anche riferimento ai sensi di colpa invece che pensare per esempio mi sento in colpa per questa cosa qui piuttosto che devo fare io questa cosa o insomma se c'è qualche peso mentalmente mentale o anche fisico nel senso che dovete fare tante cose i 10 di bastoni parla anche di imparare a delegare imparare a togliersi dei pesi e qui ho come la sensazione che vi consiglino anche un po di chiedere aiuto se c'è qualche questione pratica che sta diventando difficile gestire è un po come se sì ci fosse questo desiderio di avere una mano di diciamo anche essere un po accompagnati non lo so come la sensazione che desideriate l'intervento di qualcuno dall'esterno però avendo questo tra di pentacoli e come se ci fosse una sorta di titubanza anche nell'accettare questo aiuto esterno questa mano probabilmente c'è qualche cosa che vi preoccupa legato al passato che fa sì che le cose facciano fatica ad essere in equilibrio devo vedere di pentacoli ragazzi perché secondo me questo re regina di bastoni e 5 di coppe si infatti secondo me questo re è quella persona o è quell'aiuto quella mano che voi volevate che arriva nella seconda ma nella seconda settimana di maggio il re di denari è una persona molto generosa e se qui vi sentivate un pochettino soli fine per l'inizio maggio devo dire che cambia la situazione potrebbe essere visto che c'è un sei di coppe anche qualcuno del passato potrebbe essere un familiare potrebbe essere un amico un'amica che non vedete da tantissimo tempo e che in qualche modo riesce ad aiutarvi devo vedere questo sei di coppe mago ragazzi è come se fosse l'inizio di un lavoro l'inizio di un anno è un otto di pentacoli questo l'inizio di una nuova quotidianità mi viene anche da dire l'inizio della realizzazione di un sogno perché sei di coppe è la carta del sogno compiuto scusate non compiuto del sogno però come se ci fosse un'azione di tipo concreto per qualche cosa di nuovo per una nuova quotidianità un nuovo tipo di lavoro un nuovo tipo di costanza di progetto di modo di fare le cose se siete so che questa è una stesa sugli affetti però vi dico che potrebbe essere proprio un affetto che vi aiuta magari a trovare lavoro o a iniziare con il nuovo progetto andiamo a vedere il fante di bastoni ho visto il re di pentacoli di nuovo e regina di coppe allora devo dire che dopo tutto questo periodo inizierete ad uscire da questo tunnel se qui per esempio sei di pentacoli riguardano la vostra situazione economica che vi preoccupa qui avete 8 9 di spade perché magari volete fare delle cose delle spese da pagare insomma devo dire che nella seconda settimana di maggio questi pensieri inizieranno un pochettino a dissiparsi probabilmente per qualcuno arriverà al lavoro arriverà un aiuto arriverà un qualche tipo di nuova quotidianità potrebbe anche riavvicinarsi qualcuno del passato che con i sei di coppe non è un ex che non è stata una relazione già consumata per capirci di solito parla di relazioni platoniche però vedo come un rasserenarsi ok dell'energia prima però avete bisogno di lavorare su questa temperanza quindi con pazienza sulla guarigione sul la temperanza è una carta che indica riequilibrare lo stato psico emotivo cioè quello che dice la mente quello che dice il cuore perché quando la discrepanza è troppa normalmente poi quando è prolungata nel lungo periodo può insorgere la malattia quindi è molto importante che cuore e mente siano sullo stesso asse sulla stessa linea che vibrino allo stesso modo perché se la mente dice no voglio fare così voglio è usato la parola voglio volutamente mentre il cuore dice sento che è meglio fare così però il lavoro per esempio quando qualcuno dice è un lavoro di m non mi piace non mi piace il lavoro non mi piacciono i turni mi trovo male con i colleghi mi trovo male con i capi ma devo rimanere lì perché ho le bollette da pagare quella è la mente devo rimanere lì il cuore dice non sto bene sto soffrendo e la mente dice devo rimanere lì perché le bollette da pagare qui il trovare un allineamento sarebbe ok resisto perché il cuore comunque non ce la fa più resisto fino a quando non trovo un altro lavoro però inizio subito a cercare un altro lavoro perché la mente deve iniziare a capire che così non funziona sì è necessario pagare le bollette ma morire per lavorare anche no va bene a parte queste questi esempi andiamo a vedere un co anzen uno scusate questo un cing di king e io ho comprato eccolo qua wow 44 incontro intimo bellissimo allora ragazzi io ho comprato gli oracoli in un momento diverso rispetto al libro e quindi nel libro certe traduzioni sono diverse difatti la carta numero 44 viene tradotta con il contatto e la spiegazione è questa con le immagini della femmina forte è rappresentata la lenta sinuosa avanzata dell'avversario noi riusciamo persino a osservarla incantati perché ci sembra impossibile che una tale compiutezza estetica possa essere unita al male parla di tentazioni e in questo senso quindi noi ci facciamo incontro collaboriamo adesso e gli permettiamo di affermarsi di installarsi saldamente bisogna invece porglisi decisamente contro ostacolarlo subito con decisione senza perdersi in fronzoli un sano realismo una considerazione poco fumosa dei problemi morali è l'unica via che un uomo saggio deve seguire è un po quello che stavamo dicendo adesso no un sano realismo va bene devo pagare le bollette però non posso neanche ammalarmi perché mi obbligo a rimanere in questa situazione tossica ad esempio del lavoro amici del toro questo è quello che avevo per voi spero che in qualche modo la lettura vi sia stata di ispirazione fatemelo comunque sapere nei commenti che a me piace sempre leggerli se volete sostenere il canale potete mettere like iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao